Vito Eliseo, autore del libro La memoria dimenticata, i deportati serresi. Da cosa è stata ispirata la stesura di questo libro? Allora, io sono un appassionato di storia locale ed in particolare della Seconda Guerra Mondiale. Lungo queste mie ricerche ho incontrato questi deportati. In curiosito ho approfondito l'argomento venendo a conoscenza di fatti molto emozionanti. La storia e il passato, il vissuto di questi ragazzi, perché in effetti parliamo di ragazzi ventenni, che già sbattuti in qualche zona sperduta dell'Egeo, dei Balcani, quindi già traumatizzato da questo. Con l'armistizio l'8 settembre si sono ritrovati improvvisamente, da quello che era un alleato al loro fianco, un nemico, un nemico molto più agguerrito, molto più violento, molto più armato che non i nostri ragazzi, che li ha presi e deportati in Germania, costringendoli al lavoro umilianti, hanno sofferto la fame, il freddo e tante altre angherie, durate quasi due anni, che al loro ritorno in Italia non si sono visti gratificati di niente di questo loro sacrificio, perché il loro sacrificio non solo quello che hanno subito fisicamente, ma è stato un sacrificio anche in termini di resistenza passiva che hanno fatto al nazifascismo, perché loro, non arricchendo le file di quella che era la Repubblica Sociale, non hanno dato forza a quell'ulteriore resistenza che c'era stata nel Nord, quindi hanno agevolato praticamente la liberazione dell'Italia, pur essendo carcerati, essendo detenuti, essendo in gattività, hanno dato il loro contributo passivo alla liberazione dell'Italia e non essendo stati gratificati né dagli uomini e tanto meno dalla storia, queste persone si sono viste mortificate in tutto e per tutto e si sono chiusi in un silenzio, quasi avessero voluto esorcizzare il loro vissuto e queste storie praticamente stavano rischiando di scomparire nel nulla. Allora, io che appartengo alla seconda generazione di memoria di queste persone, di cui ne ho conosciute tante, mi sono sentito in dovere di fermare questa memoria per poterla tramandare ai più giovani, altrimenti c'era il rischio che sarebbe scomparsa definitivamente. Grazie. Grazie. Grazie.